Telespettatrici, telespettatori di Rossini TV, buona serata a tutti, benvenuti sulla nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute. Avremo ospite questa sera un kinesiologo, si chiama Stefano Lavanna, è un ragazzo originario della nostra terra. Bravissimo, si occupa di fisico, si occupa di capacità del nostro fisico di invecchiare meglio, nel senso che purtroppo, come sentiremo dire da lui, il deperimento dell'apparato muscolare è una questione fisiologica che ci riguarda tutti. Stefano è laureato in scienze motorie, ha una laurea specialistica, quindi ci darà tantissimi consigli utili per far sì che il nostro apparato muscolare sia sempre efficiente anche nel corso degli anni. Stefano è laureato in scienze motorie, ha una laurea specialistica, quindi ci darà tantissimi consigli utili per far sì che il nostro apparato muscolare sia sempre efficiente anche nel corso degli anni. studio di Fisiorari Medical Center. Stefano, buonasera a te. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito, anche perché parleremo di una condizione che non è una vera e propria patologia, perché in realtà riguarda più la fisiologia che la patologia, si tratta esattamente della sarcopenia. Ma spiegaci le origini proprio di questo vocabolo, Stefano. Allora, sarcopenia è una parola composta che viene dal greco, possiamo dividere in sarco, che viene rappresentata come carne, quindi noi poi la risolviamo nel muscolo, e penia che è la perdita, quindi sarcopenia è proprio la perdita di massa muscolare, massa magra, possiamo definirla, ecco, diciamo, quindi la perdita di ciccia, come potremmo dire negli antichi greci, perdita di carne, ecco. Ecco, soprattutto di carne, poi in quello che riguarda la fibra muscolare, che è una fibra fondamentale per tutto il movimento del nostro organismo, praticamente per tutta la vita. E si verifica, ovviamente, a un certo punto della nostra vita, l'abbiamo già detto abbastanza presto in realtà, una perdita di tono muscolare, perché sarcopenia in realtà significa perdita del tono muscolare, ed è una condizione decisamente, l'abbiamo già detto, fisiologica, cioè normale. Assolutamente sì. A volte questa definizione allarma, perché fisiologicamente il nostro corpo inizia a perdere tonicità, massa muscolare, già dai 30 anni, quindi da questa età le prime avvisaglie di riduzione di circa si mette 8-10% della massa, per poi via via dai 50 perdere intorno al 20-30%, per arrivare fino al culmine, verso i 60-70 anni, perdere quasi l'80% della massa muscolare. Quindi capiamo bene che è importante cercare di prevenire questo decadimento, perché, come abbiamo detto, non possiamo interromperlo, ma possiamo assolutamente interrompere o quantomeno ancora meglio rallentare, esatto, rallentare e incidere su questo processo, perché comunque le armi a nostro favore per fortuna ne abbiamo. Ci hai parlato ancora una volta, la parola magica, hai utilizzato prevenzione, e poi dopo ci sono anche forse delle situazioni in cui comunque la cosa è più accentuata. Prevenzione, come si fa? Cosa dobbiamo fare? Stili di vita? Esatto, forse può essere scontato, perché ormai lo sentiamo da tutte le parti, ma per quanto mi riguarda, soprattutto per il mio ambito, il movimento è una cosa fondamentale, perché comunque il nostro corpo è fatto proprio questo, per muoverci. Il nostro corpo quando sta fermo soffre, e i piccoli acciacchi magari anche semplicemente, oltre chiaramente al riposo che ogni tanto è assolutamente ben concesso, però passare troppo tempo in maniera sedentaria, fa sì che queste fibre, appunto, muscolari, perdano la loro plasticità, perdano il loro compito principale, quello di farci muovere, quello di darci sostegno, quello di darci forza, brillantezza, e si trasformano in tessuto adiposo, in grasso, quindi magari a volte a livello proprio di sostanza, di forma, non ci accorgiamo che la nostra massa è diminuita, ma l'ho fatto in termini di qualità, la qualità che infatti ci permette di avere un muscolo bello portante, bello tonico, bello tosto, reattivo, che ci permette di fare le cose senza fatica, ci permette di essere sprintosi, di non essere stanchi, di essere attivi e vogliosi di fare cose attive, appunto. Quando, per esempio, vediamo, capita di vedere, no, questi fisici straordinari di sportivi di 20-25 anni, dove effettivamente si parla di tartaruga ed è perfettamente scolpita, e magari vediamo la stessa cosa in un fisico di 40-50 anni, allenatissimo, la visione già ci dà l'idea di come comunque ci siano differenze. Assolutamente sì. Chiaro che il nostro corpo è una macchina perfetta, dicono molti, sì, perfetta, ma chiaramente soggetta a consumo, soggetta a una depauperazione, soggetta a tanti agenti, perché comunque le attività lavorative, le attività livelli, gli sport, e tutto quello che riguarda comunque un uso effettivo del nostro organismo è incidente sotto questo punto di vista. Detto è comunque che un muscolo tonico, un muscolo in forma, ci permette di essere più attivi, ci permette di essere più longevi, perché comunque avendo più voglia di fare, avendo più strumenti, perché chiaramente se uno dopo una giornata di lavoro non vede l'ora che buttarsi nel letto, che buttarsi nel divano, magari un'altra persona invece trova le forze per fare attività fisica, per fare anche semplicemente, più che l'attività in sé, uno scarico mentale, uno star bene con se stessi, che è alla base di tutto. Se uno sta bene con se stesso, il corpo sta bene, la mente sta bene. È difficile che un corpo stia bene se la mente non sta bene e viceversa. Brava, è una cosa giustissima. Tante volte diciamo che potrebbe essere sufficiente anche una bella passeggiata di 40-45 minuti, fatta bene, goduta nel vero senso della parola, per davvero fare attività fisica. Stefano, ma esiste un campanello d'allarme con il quale noi, pur sapendo che si tratta di fisiologia, quindi una cosa naturale, a un certo punto dobbiamo dire, attenzione, c'è qualcosa che non va, devo rimediare, devo intensificare, devo fare qualcosa? Allora, sicuramente una perdita di massa, magari in qualche caso, soprattutto magari nelle persone un pochino più anziane, potrebbe essere anche proprio visibile, magari quelle persone che noi definiamo rachitiche, oppure un affusolamento delle braccia, delle gambe, questo è un termine visibile. Però sicuramente io penso che la prima di tutte sia la stanchezza, o comunque la poca voglia di affrontare questo tipo di situazioni fisiche, perché come giustamente detto prima, una bella passeggiata, oppure qualsiasi tipo di attività che sia di gradimento, perché non esiste, non è giusto dire che un'attività fisica è più sbagliata o più giusta rispetto ad un'altra, ognuno deve fare ciò che piace, a chi piace notare anche d'inverno al mare con la muta, mentre magari a qualcuno piace andare a scarpinare, a fare l'attività, a giocare con gli amici, una partita a tennis, a padre, adesso a calcio a cinque, quello che ognuno preferisce. Però l'importante è tenersi attivi, quindi tornando a quello che mi hai chiesto prima, dei segnali, sicuramente la forza, la vigoria, e la voglia soprattutto di essere attivi, perché poi noi stiamo parlando diciamo a livello fisico, ma il nostro corpo è concatenato, quindi sicuramente avremo anche un aspetto che riguarda l'obesità, un aspetto che sicuramente vedrà magari i nostri valori sanguigni un pochino più sballati, per esempio per quanto riguarda l'alimentazione, abbiamo detto in precedenza, siamo una catena, siamo un sistema tanto bello, quanto complicato, quanto esigente anche, il nostro corpo richiede attenzione, noi dobbiamo essere bravi a cercare, nel darglielo nel miglior modo possibile, e in tutte le modalità che il mondo ci permette di fare. E da qui si capisce anche bene la tua formazione in scienze motoriche, proprio si vede che ce l'hai dentro. Un'ultimissima cosa Stefano, ovviamente una struttura come questa, una struttura come un centro di fisioterapia, che però non è solo meramente di fisioterapia, ma veramente può servire a tante cose, potrebbe aiutare in tanti modi a svolgere un percorso, proprio per rendere questa sarcopenia, questa diminuzione della vigoria fisica, meno incidente e dare quindi a tutti noi modo di affrontarla meglio. Assolutamente sì, le prime due attività che mi vengono in mente, per non discostarmi nemmeno troppo, diciamo, dalle mie conoscenze, sono assolutamente l'alimentazione e l'allenamento. Queste due A che vanno assolutamente di pari passi, io le chiamo sempre le due scarpe. Senza una delle due scarpe, la persona non può camminare in maniera lineare, perché comunque è l'alimentazione, è la base, è la benzina, è il nostro foraggiamento, sono le nostre materie prime ed è il nostro modo di vivere, perché comunque per come mangiamo poi è il modo in cui viviamo. Quindi attraverso il nostro biologo nutrizionista che abbiamo qui in struttura sicuramente possiamo trovare il piano alimentare che non solo in base ai nostri gusti, ma anche alle nostre abitudini, perché sappiamo bene che siamo un mondo cosmopolita, siamo un mondo che non ha orari, non ha giorni e quindi ognuno deve ritrovarci in quello che fa durante la sua giornata. Poi la palestra con me è spontanea una porta aperta perché per me il movimento è tutto, è vitalità, è gioia, è soddisfazione, è scarico, è la chiacchiera con le persone, è libera la testa e riempie anche perché non ho il cuore di soddisfazione nel dire sì ho fatto qualcosa per me, per la mia testa e per il mio fisico e anche fondamentalmente per chi ti sta intorno, perché se sei più sereno poi sei più sereno al lavoro, sei più sereno a casa, sei più sereno con gli amici, un pochino nella vita in generale. Torniamo al discorso di prima che testo e corpo vanno assolutamente di pari passo. Stefano, grazie davvero, ci hai fatto davvero venire voglia, immediatamente questa sera andremo a correre in palestra, faremo di tutto perché hai detto delle cose verissime che sono davvero da riportare a tutti, quindi invitiamo anche chi ci ha seguito fino adesso a seguire questi consigli perché sono preziosi. Grazie Stefano. Grazie a te. E buona serata a tutti, grazie. Grazie a te. 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 Grazie a te.